L'uomo è ciò che mangia, non solo perché il cibo è indispensabile per mantenerci in buona salute, ma sostanzialmente anche perché attraverso il cibo costruiamo la nostra identità individuale e collettiva. Se ci pensiamo bene, il cibo è un linguaggio attraverso il quale raccontiamo di noi la nostra storia, tramandiamo le nostre tradizioni, costruiamo le nostre gerarchie sociali. Se ci pensate, il cibo è un potentissimo strumento di inclusione ed esclusione sociale. Pertanto il cibo non è soltanto buono da mangiare, ma è anche buono da pensare ed è anche buono per farci pensare. Penseremo al cibo, ne parleremo, ne effetteremo dal Festival Collegamenti con Nicola Gasbarro e Gianfranco Marrone. Ci vedremo tutti il 10 giugno al Palazzo di Topo Wasserman alle ore 19. Al prossimo episodio